Io dico proprio eliminare tutto, perché è proprio il Parlamento? No Luis, vuoi fare un golpe? No, non lo sto dicendo Muschio selvaggio! Il podcast più fico! Luis! Federico! Il gioco triangolare! Muschio, microfono, videocamere e luci! Ospiti diversi, tanti nuovi amici! 20 minuti, un'ora di argomenti! L'esame, prevedibilità, gioco, inadevotezza, risate, piante, rispetto, sincerità e approfondimenti! Siamo negli anni venti! Muschio selvaggio! Cidolo massaggio! Chi presenta Marco Cappato? Chi è che ha studiato meglio di voi? Faccio io? Possiamo dire... Sì, vai! Fa la poetica! Breve, eh! Deve essere breve la presentazione! Brevissima, brevissima! Tipo, abbiamo con noi Marco Cappato! Abbiamo con noi Marco! Lo presenti tu? Secondo me Martino è indicato per fare la presentazione! Va bene, io ci provo! Se avessi la certezza che qualcuno stesse venendo a casa mia, col preciso intento di aiutarmi, io scapperei! Esattamente in quel momento! Ma se non fossi la possibilità di scappare e volessi scappare, abbiamo qui con noi Marco Cappato! Hai paura che vengano a casa mia? È una presentazione fantastica! No, tu mi devi aiutare da chi vuole aiutarmi! Ok, perfetto! Capito! Sono pronto! Io posso lasciare lo show! Come vi sembra? Come presentazione funziona? È bella! Mi sono perso con la... Cosa c'è? L'Apollo di Hogwarts? Di Harry Potter? No, era il mio dicevo negli Stati Uniti! Ah, ok, scusami! Beh, è una bellissima presentazione! Per chi non conoscesse Marco Cappato, è una persona che ci può insegnare la disobbedienza civile! Sì, cioè facciamo che abbiamo qui la persona più preparata su Marco Cappato, che è Marco Cappato! Partiamo dalle basi! Ottimo, ottimo! Ecco, in merito alla disobbedienza civile, secondo te, arriva in risposta a un'obbedienza incivile? Si può intendere in questa maniera? Al di là di molte definizioni che possiamo avere accademiche, eccetera, la legge non sempre è giusta. Cosa vuol dire legge giusta, non giusta? È soggettivo, ovviamente. Quando venivano mandati ai campi di sterminio gli ebrei, era fatto nel rispetto della legge, certo. E chi li nascondeva, li proteggeva, li aiutava, violava la legge. A che cosa rispondevano le persone che comunque lo facevano disobbedendo? Alla propria coscienza, si potrebbe dire, ed è un fatto totalmente soggettivo. Poi c'è anche una lettura più politica, puoi rispondere a una legge superiore. Quindi l'idea che ci siano, per esempio, le dichiarazioni delle Nazioni Unite, dell'ONU, che difendono i diritti fondamentali di tutte le persone senza discriminazione di sesso, razza, religione, eccetera, può giustificare in un dato Paese che uno si assume la responsabilità di disobbedire a una legge nazionale scritta perché ne invoca una superiore, magari proprio a livello internazionale. Storicamente, quando abbiamo nella storia, anche come radicali, disobbedito a delle leggi sull'aborto, sulle droghe, sull'eutanasia, abbiamo invocato dei principi costituzionali, di riconoscimento della libertà e responsabilità fondamentale che ciascuno deve poter avere sul proprio corpo e che vale di più di una regola che rischia di mandare a X anni di carcere chi un tempo procura un aborto o chi consuma droghe o chi vorrebbe essere aiutato a morire. Per dare un po' di nozioni rispetto allo storico di Marco Cappato, Marco Cappato, magari ce lo racconti anche tu, però vieni da un'estrazione radicale principalmente. Allora, diciamo, io sono stato in realtà due volte parlamentare europeo. Ah, è vero, due volte parlamentare europeo. E anche ti sei candidato a sindaco di Milano, però in realtà ad oggi vive la politica ai margini. Negli ultimi anni non mi sono più candidato perché in realtà penso che la politica elettorale nazionale poi sia sempre meno adeguata per cercare di dare risposte ai problemi della gente, ma per un fatto molto preciso perché la politica elettorale nazionale c'è il bisogno di parlare male, diciamo così, degli altri. In particolare di quelli che sono simili a te, magari proprio se stanno nello stesso partito ancora peggio. Invece oggi, se vogliamo affrontare grandissimi temi del nostro tempo, dal riscaldamento globale, cambiamenti climatici, all'immigrazione, le crisi finanziarie internazionali, queste cose bisogna affrontarle unendo persone di diversi paesi, di diversi partiti, di diversa estrazione culturale e sociale sull'obiettivo. E quindi quello che sto cercando di fare è una cosa che è detta così, magari uno di te, ma che è un movimento paneuropeo, quindi non nazionale, che si fondi sull'iniziativa popolare, referendum, leggi di iniziativa popolare, non sulla presentazione alle elezioni. Questa cosa si chiama EUMANS, o EUMANS a seconda di come lo volete pronunciare, ed ha proprio l'obiettivo di unire persone che condividono obiettivi comuni sui grandi temi del nostro tempo. Chiaro, quindi una politica pragmatica. Pragmatica, non ideologica, senza la necessità di dividere e distinguere, ma unirsi su degli obiettivi. Chiaro, e quindi tu da quanto fai parte dell'associazione Coscioni? L'associazione Luca Coscioni dall'inizio, che ormai sono passati quasi una ventina d'anni. Ci spieghi che cos'è l'associazione Luca Coscioni? Luca Coscioni era un malato di sclerosi laterale amiotrofica, cioè una delle più terribili che possiate immaginare, lentamente perdi ogni funzione muscolare, tranne i movimenti della faccia. Alla fine Luca parlava con gli occhi e era un leader politico. È stato un leader nel dire una cosa semplice. Scusate, la ricerca che dà più speranze per combattere una malattia come la mia, ma anche come Parkinson e altre, è la ricerca sugli embrioni, sulle cellule staminali e embrionali. Questa ricerca in Italia è vietata. Vietata vuol dire che puoi andare in carcere fino a tre anni se fai ricerca. Malin Parmar, che è una scienziata svedese, che è quella che ha il mondo più avanti nel trovare una cura sul Parkinson, se facesse la sua ricerca qui a Milano sarebbe arrestata fino a tre anni e multata fino a 300 mila euro. Per motivazioni etiche? Perché questi embrioni, la legge italiana li tratta come delle persone. Essere viventi. Attenzione, embrioni non sono dei feti. Gli embrioni non si vedono, a occhio nudo non si vede un embrione. È l'unione, la prima unione delle prime ore di cellule. Tra l'altro, questi embrioni vengono buttati via. Cioè, gli embrioni che avanzano, per esempio dalla fecondazione assistita, tu una coppia decide di fare un figlio, fa degli embrioni, comincia a impiantarli, se riesce a rimanere incinta la donna, poi non è che impianta anche gli altri. Questi embrioni vengono, per la legge italiana, buttati, conservati fino a quando marciranno da soli. Salvo poi, come si fa in Italia, poterli importare dall'estero per fare la ricerca. Infatti, una delle azioni di disobbedienza civile che ho fatto è stata proprio questa. Mi sono fatto dare degli embrioni congelati da un centro di fecondazione assistita in Italia. Li ho mandati in Svezia affinché lì potessero essere usati per la ricerca scientifica. Ho fatto una conferenza stampa autodenunciandomi, ma nulla è successo. Quindi una delle modalità comunque della disobbedienza civile è quella di contravenire alle leggi. Un po' a viso aperto. Perché contravenire, secondo me, è sfruttare dei vuoti legislativi che molto spesso vengono imposti per motivazioni, secondo me, dati molto spesso, molte tecamatiche che lui ha affrontato dall'ingerenza della chiesa, dei retaggi culturali antichi. Ma non ci sono vuoti legislativi? Ci sono veramente le leggi orali? No, lui ha sfruttato un vuoto legislativo. La disobbedienza civile si può anche usare per gli obiettivi esattamente opposti ai miei. Uno può fare disobbedienza civile a delle leggi, che sono le leggi a favore della regolamentazione dell'aborto, eccetera. Quindi una disobbedienza civile di per sé non è né giusta né sbagliata. Bisogna poi entrare nel merito. A mio avviso la cosa importante è assumersi la responsabilità di quello che si fa. Perché altrimenti, è una cosa un po', aggiriamo la legge. Io per carità sono contento se i centri sociali organizzano la coltivazione, la fumata. Penso che non sia neanche una cosa inutile, perché aiuta anche a capire l'assurdità delle leggi. Ma per chiamare la disobbedienza civile, a mio avviso, bisogna apertamente esigere, oltre a chiedere, di essere processati. Certo, perché metti tutti davanti, di fronte al paradosso e all'assurdità. È l'occasione per dire, ok, siete d'accordo o no? Non è che potete far finta di dire, vabbè, ma la legge c'è, ma tanto poi non la applichiamo. Se c'è, la dovete applicare, oppure la dovete cambiare. Che è esattamente quello che è successo poi per il caso di Jay Fabo. E se non sbaglio sei stato arrestato anche in Russia. Sì, lì è stata una manifestazione non autorizzata, un gay pride in realtà, nel 2007. L'anno prima le associazioni LGBT moscovite avevano fatto il primo gay pride a Mosca e erano stati brutalmente picchiati. Ai tempi ero parlamentare europeo e queste organizzazioni hanno deciso vabbè, allora, chiamiamo dei parlamentari di altri paesi così che non ci picchino più. Certo. Io sono andato invece, ovviamente... Siete stati picchiati dai nazi skin, non dalla polizia. No, difatti, allora io mi sono messo a gridare come un'aquila, anche perché stavano pigliando a calci. Ma chi vi stava picchiando era un gruppo di... in cui la polizia lasciava fare, di fatto, il lavoro... Incredibile. E sono stati arrestati loro al posto dei nazi skin che li hanno aggrediti. C'è un video un po' patetico di me che, no, anche simpatico, di me che grido «I'm a member of the European Parliament!» Stavi giocando la carta! «Why you don't protect us?» Allora, sì, «I'm a member of the European Parliament!» Boom! Mi hanno preso e mi hanno caricato sul furgone della... su un camioncino della polizia. Era più una specie di bus della polizia, dove in realtà caricavano sia a noi che i nazi skin lasciandoci lì da dentro, da soli, come se ci facciano vedere il coltello. Quindi il messaggio era, noi siamo... non è che facciamo queste cose noi poliziotti russi, per bene. Vedetevela. E la facciamo fare. Agli altri, però a dimostrazione di quello che dicevi, ovvero assumersi le responsabilità di ciò che fai quando fai disobbedenza civile, in quel caso tu hai chiesto espressamente di essere processato come i manifestanti muscovici. Certo, ovviamente non è quello che è successo, perché poi lì si è interessato... In quanto membro del Parlamento. Le tattoo, te le ricordi? Certo, cazzo, le tattoo! Potrei cantarti la cancina. Oh, no, fisi sera! Adesso neanche io la so cantare. Era le famose per essere la prima boy band lesbo. Finta, tra l'altro, penso. Poi non erano veramente lesbo. Si facevano questo bacio saffico in un videoclip. C'erano anche loro. Loro sono andate via subito su furgoncino, c'era anche Vladimir Luxuria, c'era tutta una... E qui si è cominciato a menare, era stato abbastanza forte. Comunque la parola disobbedienza civile dice tutto, nel senso lo fai in un modo civile perché ti assumi le tue responsabilità, sennò sarebbe disobbedienza e basta. E basta, certo. Quindi tu alla fine sei un individuo che applica i suoi diritti che ritiene giusti dove non vengono accettati dalla legge. Allora, non sempre si può fare così. Non è che io adesso voglio fare il maestrino che dice bisogna fare così. Se tu nascondevi gli ebrei perché non fossero stati nazisti, non è che fai la disobbedienza civile e poi vai a dire io nascondo gli ebrei processati. Certo. Ovviamente. Quindi di fatti Gandhi che insieme a Thoreau e a Martin Luther King è stato uno dei maestri della disobbedienza civile e in Italia Marco Pannella certamente lavoravano avendo una situazione di diritto e di stato di diritto alla quale puntavano. fare una disobbedienza civile di fronte a una dittatura sanguinaria allora lì è un'altra cosa. Devi provare a fare delle azioni più di sabotaggio, di boicottaggio perché se no è l'azione stessa accade. Per chi non conoscesse il caso FABO secondo me è super popolare però ci riesce a fare un riassuntino di cosa è successo? Allora ancora più indietro 12 anni fa Pier Giorgio Welby malato di distrofia chiese a Napolitano di poter ottenere l'eutanasia in realtà ottenne legalmente dopo una battaglia che durò tre mesi grazie al nostro aiuto di poter sospendere i trattamenti sanitari e in questo modo di fronte a mille polemiche io se non ricordo male furono negati pure i funerali religiosi mamma mia incredibile perché ai tempi Ruini disse che Cardinal Ruini siccome Welby aveva chiaramente detto di volere morire doveva essere trattato come un suicida di fatto. Ma anche un suicida merita un funerale. Anche per me ma insomma invece per i cattolici non li ammettono nel camposanto in teoria i suicidi. Per Ruini no. Stanno fuori dal privé. Vabbè non si fa il funerale cattolico. Quindi quella è stata la situazione. Fabiano Antoniani dopo molti altri casi di persone che abbiamo aiutato a potere diciamo far rispettare la propria volontà Fabiano Antoniani un dj che ormai da quasi tre anni era stato reso completamente paralizzato da un incidente d'auto e anche cieco in modo irreversibile dopo due anni e mezzo di lotta di fisioterapia e di tentativi eccetera a un certo punto a causa di un dolore ormai assolutamente insopportabile di spasmi di dolori insopportabili mi ha contattato la fidanzata Valeria per chiedere se potevamo aiutarlo a fare ciò che voleva cioè ad andare in Svizzera ad ottenere lì dove è legale l'aiuto a morire medicalmente legalmente. La prima cosa che chiesi a Fabio gli dissi proprio guarda noi ti aiutiamo comunque le informazioni il viaggio se necessario perché non ci siano rischi giudiziari per la tua famiglia per tua mamma per la tua fidanzata però se vuoi anche che questo serva agli altri allora rendiamolo pubblico se vuoi renderlo pubblico perché ovviamente doveva essere lui a decidere lui è stato subito entusiasta di questo abbiamo girato un video messaggio rivolto al presidente della repubblica mattarella dove appunto chiedeva e raccontava pubblicamente questa iniziativa e lì il caso che è diventato pubblico ha smosso le coscienze alla fine anche smosso il parlamento che ha approvato almeno la legge sul testamento biologico cioè la possibilità di lasciare scritte le proprie volontà quando un domani prima di non poter di non essere più esatto di intendere di volere e poi c'è stata la corte costituzionale l'assoluzione e lì rispetto alla disobbedienza civile tu ti sei costituito subito dopo aver accompagnato DJ Fabio allora il reato in italia si chiama aiuto al suicidio al codice penale del 1930 c'era legge del 1930 e prevede una pena minima di 5 anni di carcere fino a 12 anni di carcere una pena che non era stata studiata per i malati terminali nel 1930 non esistevano i malati terminali era stata studiata per chiarire che l'interesse superiore della nazione vale di più della scelta della singola la scelta autonoma era pieno regime fascista e quindi lo stato etico doveva spiegare con la minaccia del carcere che l'interesse dello stato doveva valere di più di quello della persona di quello dell'individuo e dell'individualità non si è aggiornata la legge quando si è aggiornata il progresso scientifico e quella legge ancora in funzione in realtà c'è un altro processo per il quale ci siamo autodenunciati con mina welby il che invece ancora in corso questo processo per la morte di davide trentini e qui la particolarità è che davide trentini non era attaccato una macchina come fabo e quindi non avrebbe potuto morire neanche lentamente attraverso la sospensione il distacco di una macchina l'unica soluzione per lui era proprio l'aiuto a morire diretto con l'assunzione di una sostanza letale il problema è che poi non la voglio fare troppo complicata ma la corte costituzionale nel indicare la strada per la soluzione sul caso di dj fabo ha stabilito dei criteri dentro i quali non si è pronunciata la corte costituzionale perché il parlamento non l'ha mai fatto voi avete depositato una legge sei anni fa che non è mai stata discussa esatto una legge d'iniziativa popolare per l'eutanasia legale teoricamente nella costituzione c'è scritto il popolo esercita l'iniziativa delle leggi in sei anni e mezzo mai una discussione la corte costituzionale aveva dato un anno di tempo al parlamento il parlamento non ha fatto nulla a quel punto ha detto va bene nelle condizioni come quella di fabiano quindi di una persona la corte costituzionale si è mossa semplicemente perché ti sei mosso tu perché tu ti sei costituito e perché c'era il tuo processo si è mossa solo per la sentenza del tribunale di milano ha proprio chiesto alla corte costituzionale noi se dobbiamo se leggiamo la legge lo dovremmo condannare però come dicevamo prima la costituzione una legge superiore e certo la libertà è comunque vale qualcosa per la per la costituzione la corte costituzionale quindi ha stabilito che se la persona è con sofferenza insopportabile malattia irreversibile e dipendente da un trattamento sanitario diciamo quindi attaccata a una macchina come si dice allora chi l'aiuta a morire se un medico all'interno del sistema sanitario nazionale eccetera non può essere punito non essendo davide trentini tecnicamente attaccato una macchina ora vedremo che cosa farà il tribunale nel caso di avete posto un altro quesito quindi in sostanza anche perché che senso ha penso che il diritto di poter scegliere di essere aiutato a morire non deve dipendere dalla tecnica con la quale sei tenuto in vita o dalla tecnica con la quale si è fatto morire dipende dal tuo grado di sofferenza dal tuo grado di malattia e della tua volontà e quindi magari torneremo sì sì però è incredibile rispetto al tema disobbedienza civile come poi un singolo che si prodiga per gli altri in sostanza può sollevare delle tematiche che rimarrebbero impolverate tu immaginate la situazione di j fabo se l'avesse dovuto fare la famiglia in totale clandestinità oggi questa cosa sarebbe avvenuta comunque ma non si sarebbe sollevato il tema ma se magari succede successo ma voglia ne succederà la legge sull'aborto in italia c'è perché con il centro italiano stedializzazione aborto all'inizio degli anni la metà degli anni 70 furono arrestate ma bonino delle facce gianfranco spadaccia i leader del partito radicale per aborti clandestini del quale siano assunti la responsabilità la prima disobbedienza civile sulle droghe in italia ancora negli anni 70 marco pannella che fumò pubblicamente uno spinello e si fece qualche settimana di carcere lì ci fu almeno una parziale depenalizzazione del consumo che fece uscire molti consumatori dal carcere che tutti ormai riconoscono essere addirittura controproducente per pensare di combattere le droghe mettendo in carcere i consumatori quindi storicamente in italia ma non solo in italia è stato uno strumento efficace perché poi questo il problema in politica il problema non è così morale o farsi belli dire vabbè io rischiato non è rischiato il problema è qual è il modo più efficace per cambiare le cose poi secondo me il segreto sta sempre nel cercare di mettere il focus del dibattito su questi argomenti cioè di rendere è brutto da dire però ragazzi è di rendere interessanti argomenti a cui la gente non si appassionerebbe più che interessante restituire magari centralità sì ma come come lo fai il racconto della cosa pubblica spesso come dire invaso da robe che non sarebbero interessanti ma che diventano endemiche dal momento che fanno leva magari su sulla paura sull'indignazione commozione emozioni spesso in realtà non devono essere interessanti per tutti devono essere interessanti sì sì per tutti nel caso non venisse fatto nessun cambiamento ma devono essere interessanti per chi cambia le leggi ma per far sì che siano interessanti per chi cambia le leggi deve esserci una sollevazione popolare faccio un esempio da quello che so io tu per quando ti sei candidato a sindaco di milano siccome non avevi spazio tra la nella narrazione politica e quindi non avevi spazi televisivi non avevi spazi di comunicazione ti sei iscritto su grinder che è una piattaforma per con una piattaforma di incontri gay e la roba incredibile che dopo questa cosa è stato invitato in televisione per parlare di sta cagata qua attraverso grinder sì ed è per quello che dico che la la disobbedienza civile molto spesso fantasiosa è creatività negli ultimi dieci anni se pensate no le sparate di grillo le sparate di salvini le sparate sono sparate monodirezionali no un tempo c'era cosa intendi quando dici monodirezionali monologhi non c'è mai certo dici salvini che dice a e risponde a b quello che stai dicendo non è vero io la sparo e poi dopo andatevela voi a cercare la verità nell'italia di 50 anni fa tra partito comunista democrazia cristiana avevano insieme probabilmente decine di milioni di iscritti oggi è più è ancora di più un problema perché i partiti non rappresentano più nulla e quindi ognuno è un po da solo a gestirsi la cosa e quindi questo è positivo perché siamo più liberi non siamo ideologizzati noi allora io sono comunista allora devo pensare così io cosa pensi di questi moti spontanei post ideologici che si stanno creando anche in italia nel mondo che dovrebbero essere aiutati dalla tecnologia a relazionarsi con il potere e con le istituzioni per per trasformare tutto questo movimento anche in proposte per poterle discutere altrimenti si crea una frustrazione enorme tra la possibilità che hanno le persone di sapere direttamente il cambiamento climatico quello che sta succedendo i rischi per l'ambiente per tutti noi e poi questo cosa succede cosa succede niente ma sarebbe più facile eliminare tutto e ripartire da zero o continuare a rattoppare ciò che è stato fatto tempo fa ma sai eliminare tutto comunque non si può fare nel senso poi avere poi cambiare molto radicalmente le cose si eliminare tutto rischia di essere come diceva lui il vaffanculo il vaffano poi però dopo il vaffa alla fine la tua missione è diventata eleggere centinaia di parlamentari e non ma li giocavano sulle regole del gioco non sono state cambiate lì si è giocato per le regole del gioco dico proprio eliminare tutto perché proprio il parlamento no luisi vuoi fare un golpe no non lo sto dicendo sto dicendo sarebbe meglio non la vostra opinione ma secondo voi non sarebbe più cosa ti trovi limiti tutto così cioè teniamo alcune cose per la costituzione quelle cosette lì ma si riparte già la lascia è un utopista ok ma si riparte perché ci sono tante leggi no se una bella scrematina beh beh questa è la visione di un vero creativo quello diceva una roba simile che diceva facciamo subentrare una categoria di distruttori che buttano giù tutto preparando il campo per i costruttori che rifonderanno la cosa umana su delle basi e lì però gandhi avrebbe risposto arriva gandhi a bacuni che il il fine non giustifica mai i mezzi che se tu usi dei mezzi diciamo violenti o di soppressione poi dopo è difficile costruire se sei stato se hai preso il potere come distruttore allora il problema è che cioè il parlamento per esempio sarebbe un'istituzione favolosa se i dibattiti fossero veri dibattiti magari su temi chiaramente presentati in televisione chi a favore chi è contro ma noi un dibattito sull'eutanasia in parlamento non l'abbiamo ancora ottenuto perché i capi dei partiti sono terrorizzati dal fatto che non tengono le loro truppe poi c'è vaticano che preme poi però perdo l'elettorato che poi più immaginario che reale quanto è pesante l'ingerenza della chiesa in questo caso allora vent'anni fa era la tale vaticano aveva la leadership nel senso che con i soldi del 8 per mille era proprio un'organizzazione militare su questi temi oggi si dice più realisti del re ci sono i più papisti del papa cioè ci sono politici che non hanno più spinte ideali alle quali riferirsi e quindi usano la religione per giustificare ogni tipo ogni tipo di scelta posso dire una cosa che mi ha stupito l'altro ieri mi stavo facendo una ricerchina su su di te e su quello che hai fatto e mi sono visto la le tue spontanee dichiarazioni prima della della sentenza del del caso di dj fabo e c'è questa immagine fantastica di lui in tribunale dietro di lui un crocifisso appeso e io pensavo ma in uno stato laico in un'area nel 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 territorio della giustizia no è giusto che ci sia un crocifisso appeso no ma non cambia niente cambia cazzo è lì tra l'altro la decisione è sempre di quell'epoca lì cioè lui dice abbiamo il crocifisso dappertutto perché la nostra cultura sia un simbolo non è vero quelli crocifissi da negli uffici pubblici li ha messi mussolini e li ha mussolini era un anticlericale nato come socialista direttore dell'avanti e li ha messi nel momento in cui aveva bisogno della chiesa di legittimare il proprio potere usando la chiesa quindi secondo me un cattolico dovrebbe essere doppiamente effeso dal crocifisso usato come sfruttamento propagandista della religione sono dimenticati di toglierli come le decorazioni natalizie a marzo fa ridere cioè fa ridere ho trovato tragicomica la scena dove sostanzialmente lui doveva essere processato per una cosa per un tabù ideologico come un povero cristo fortemente legato secondo me a dei tabù religiosi no legati alla religione in un'area che dovrebbe essere non contaminata dalla religione è un crocifisso dietro di lui l'ho trovata una cosa assurda vorrebbe essere appeso in tribunale ovunque e ormai è una trappola perché se tu dici no allora togliamoli allora tu stai facendo un gesto è un cane che si morde la coda ma si fa prima lasciarlo lì non fa niente sta lì in alto mi ha fatto ridere il contesto se ci fosse stata pacciani non mi avrebbe fatto ridere mi ha fatto ridere che c'era lui un processo di quel tipo lì è un crocifisso invece pacciani per il pubblico più giovane devi spiegare pacciani come no pacciani lo conosco tu lo conosci tantissimo e credi che il mondo lo conosca il mostro di Firenze in realtà morto assolto quindi non è il vero mostro di Firenze no però poi dopo l'ha condannato dopo che è morto ha fatto delle belle porcate anche prima il paccianone sì lui agli amici poesia certo scriveva poesia era un artista ragazzi faceva i quadri che dice pacciani in tribunale su pacciani loro sì perché la poesia che disse pacciani in tribunale ah sì certo certo ma adesso dobbiamo parlare della poesia in tribunale non c'entra niente però restituisce una morale anche rispetto ai nostri discorsi vedi pacciani allora voglio essere uno sguardo lungo era in toscano quindi perdonatemi la pronuncia che se nel mondo ci fosse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello ci sarebbero meno pensieri e meno pene e il munno ne sarebbe assai più bello e il giudice a quel punto bravo bravo noi condividiamo però le ricordo che lei è davanti alla corte d'assisi ed è imputato di 16 omicidi invece volevo chiederti la classifica mi dissocio delle io pure ci mancherebbe che abbiamo riso dopo 16 omicidi faccia faccia a ridere è passato abbastanza tempo perché possiate ridere secondo me mi sembra molto epica questa lotta che un individuo te in questo caso fa cioè volendo non potresti anche non essere davvero un politico avere niente a che fare potresti essere davvero solo un individuo che fa delle cose in modo plateale e si fa prendere per lanciare un messaggio secondo ma lui è così è così lui non è un politico è un individuo è assurdo perché tutti potrebbero farlo ma tu prendi la responsabilità di farlo da cittadino assumendote le conseguenze diciamo che secondo me adesso una delle cose veramente urgenti dicevo proprio oggi in messico muoiono un centinaio di persone al giorno per la guerra contro le droghe cioè che ormai è diventata che i narcos sono più potenti dello stato ecco se noi non liberiamo l'economia di questo inquinamento incredibile dei profitti delle droghe proibite non penso che ci sono perché poi il potere di corruzione della politica dell'economia dei negozi che aprono e chiudono è così forte che non ne usciamo e poi c'è anche un altro aspetto culturale che prima o poi bisognerà affrontare anche se è più pericoloso che togliere il crocifisso ed è l'utilizzo positivo terapeutico pensiamo lsd ayahuasca funghi allucinogeni cioè di come gli scienziati abbiano ricominciato a studiare queste sostanze e queste sostanze possono essere utili come la cannabis delle patologie psichiatriche molto gravi ovviamente non è che va in discoteca cioè lo fai in un contesto di studio e i movimenti che ne avevano parlato ormai 50 anni fa credo che avessero posto una questione fondamentale di cercare di conoscere come funziona la nostra mente ecco un altro dicevi la scuola un'altra cosa che a scuola è incredibile che non si cerchi di insegnare è un minimo di intelligenza emotiva e di logica elementare cioè passiamo il 100% del tempo a assorbire nozioni ma poi anche insegnare ai bambini anche molto piccoli che si può resistere alla rabbia si può resistere alla violenza la battaglia di gallimberto questo è fondamentale eppure si dà per scontato che uno deve imparare tra l'altro ormai con con la rivoluzione digitale imparare qualcosa memorizzarlo è sempre meno importante tu devi avere l'insegnamento dei criteri con il quale imparare e dialogare con gli altri ma se tu memorizzi un sacco di roba che poi comunque trovi la lì ma che cosa serve dall'avvento della calcolatrice di base il mondo imprevedibile imperfetto quindi bisogna adottarsi degli strumenti per affrontarlo in tutte le facce che può prendere no quindi anche di fronte a pericoli legati all'utilizzo o meno di certe sostanze piuttosto che scelte di vita bisogna se non altro presentarsi preparati poi questa situazione paradossale rispetto a una delle tue battaglie insieme ai radicali è il tema della legalizzazione delle droghe leggere no ad oggi sfruttando un vuoto sempre un vuoto legislativo hanno aperto tutti i negozi di cannabis light che adesso sono praticamente messi a rischio perché che decreto gli ha messi a rischio neanche io vabbè comunque sono meglio vogliono farli chiudere in sostanza ed è incredibile perché magari ci sono ragazzi giovani giovani imprenditori che hanno investito i loro risparmi per dar vita a una nuova economia fondamentalmente perché in california è nata una new economy solo basata sulla marijuana non legale cioè quella che qui non è considerata legale qui stava partendo un business di cannabis legale e si vuole stroncare e avranno pensato è fake cioè almeno avessero messo quella vera direttamente in questi casi ricordiamo sempre che 30.000 morti l'anno di alcol in Italia 90.000 morti l'anno di tabacco quindi la logica per la quale una sostanza viene legalizzata e proibita è completamente indipendente dalla pericolosità della sostanza la storia poi ha spiegato che il proibizionismo non funziona e a questo punto tanto vale prenderla dalla parte più difficile cioè droghe leggere certo ma l'eroina a Zurigo viene data sotto controllo medico con siringhe sterili eroina prodotta dallo stato svizzero in una qualità tale per la quale con controllo è impossibile morire di overdose e la persona tossicodipendente non deve passare tutta la sua giornata a rubare prostituirsi per prendere l'eroina i risultati sono enormi hanno vinto tre referendum che hanno provato perché lì li fanno sul serio referendum per abolire questa roba e gli elettori di destra non solo quei libertari che si fanno le canne ma gli elettori di destra in nome della sicurezza in nome del rispetto delle regole no perché così la situazione la possiamo governare e controllare quindi questo secondo me è un tema diciamo che riconoscere la minoranza più piccola del mondo l'individuo la possibilità di autodeterminarsi attraverso le proprie scelte spesso è la migliore politica che si può fare c'è tipo questa storia ora tu mi hai citato prima il fatto che si tenda a intellettualizzare troppo certi argomenti però io parto molto da così dai testi dagli aneddoti per ragionare anche su temi legati alla contemporaneità c'era questa storia che tira fuori spesso Choran legata al suicidio che un giorno camminando su di un ponte vede un tizio che sta per buttarsi di sotto lo ferma e cerca di convincerlo a non suicidarsi Choran sarebbe la persona meno indicata per convincere qualcuno a non suicidarsi però il discorso che gli fa è paradossale ma ha un fondo di verità cioè che fin tanto che ha la possibilità di uccidersi non ha senso uccidersi il motivo stesso del suicidio spesso è la mancanza della libertà di uccidersi i francesi hanno un termine buffo che esprime bene questo concetto che è l'appel du vide quindi la chiamata del voto che è una cosa che capita a tutti quando tu sei davanti a uno strapiombo ti viene vada di buttarti giù esattamente e questa è una cosa sanissima perché è un esercizio della mente che ti dimostra che hai potere sulla morte hai potere sulla vita e sulla morte è una scelta giornaliera ed è il motivo per il quale il proibizionismo non ha mai funzionato in nessun paese in cui è stato applicato perché se un individuo vuol fare qualcosa lo fa il suicidio in realtà è legale di suicidio, parlo adesso di suicidio cioè se io adesso volessi uccidermi lo potrei fare arrestami, prova, ci sono morto le condizioni fisiche sì e non è un reato ma infatti tante persone contattano Dignitas o altre organizzazioni svizzere pagano, si iscrivono eccetera e poi non vanno perché quello che volevano era avere la libertà di poter prendere quella scelta essere nella condizione di poter dire ok se voglio lo posso fare e allora molto spesso non lo faccio posso farti una domanda? io ho una cosa che ho notato recentemente tra i giovani essendo non più giovane diciamo un diversamente giovane lo accetto ho notato una nuova tipologia di droga che ormai è la nuova moda delle droghe che mi sembra, magari sbaglio che i ragazzini di oggi non cercano più l'erba cioè l'erba è diventata la sigaretta e invece è arrivata tutta quell'ondata oltreoceano che in America c'è da ormai 20 anni penso che è tutta l'avvento delle droghe farmaceutiche cioè droghe legali che si prendono con ricette false e i ragazzini con le benzodiazepine, Prozac ed è incredibile che noi come è nata? non c'è più quella coca pulita di una volta io sono all'ibito è molto importante quando ci sono delle droghe legalmente disponibili che però ci sia un controllo e un disincentivo cioè non è che legalizzare la cannabis per me non significa che in televisione ti faccio la pubblicità e ti invito a consumare di più come se fosse una cosa di per sé bella per esempio le regole restrittive sul fumo io le trovo assolutamente sacrosante non le toccherei forse sono anzi da rendere più rigide la gente non sa che l'alcol è cancerogeno cioè l'alcol è cancerogeno non c'è non c'è scritto sulle bottiglie non c'è scritto da nessuno e tutti i politici vanno al Vinitaly ogni anno a fare brindisi con farinetti e non si capisce bene perché ovviamente non è che io sono a favore ci mancherebbe altro di proibire l'alcol dico che il controllo ci deve essere e l'informazione anche anche che ci sia una spinta commerciale al sovraconsumo o al consumo di massa di psicofarmaci di opioidi di opiace insomma è una cosa assolutamente sì non ti ho formulato bene la domanda cioè la domanda era scusami secondo te il proibizionismo che c'è stato in Italia fino ad oggi con la fine di giovanardi ha contribuito e incentivato l'avvento di queste droghe farmaceutiche secondo te? di queste non so diciamo che sicuramente c'è una spinta dovuta dal proibizionismo a cercare sostanze sempre più potenti e anche sempre più difficili da bloccare questo sì la stessa marijuana non è più la marijuana di 30 anni fa molto spesso è una marijuana iperpotenziata perché se già lo spacciatore deve rischiare già che rischia meglio che sia una roba più potente e se magari ti convinco di passare dalla marijuana alla cocaina ancora meglio perché il margine di guadagno è ancora superiore quindi il proibizionismo ha contribuito a una spinta alla moltiplicazione delle sostanze e alla loro sempre maggiore pericolosità ti fai le canne? molto raramente diciamo tu no neanche io io non ho mai fumato neanche una garetta pensa che io quando sono andato a parlare con giovanardi del tema legalizzazione di droga leggera andavo da non consumatore in quel caso ho fatto disobbedienza civile no non è vero non ho fatto un cazzo niente sono andato a dire quello che pensavo io sono pro alla causa nonostante non sfrutterei assolutamente le droghe di nessun tipo perché non l'ho mai utilizzato non mi sembra divertente come pratica ma personalmente però perché no? prima hai citato l'ayahuasca sì è una cosa che me ne hanno quello l'ho presa ci racconti l'ayahuasca ti prego? ma è una perché non è una droga in realtà si dice è una droga? beh se vogliamo intenderla come sostanza psicoattiva cioè che ti muove qualcosa nella testa eccetera è sicuramente una droga non ti dà dipendenza non ti dà particolari ci racconti la tua esperienza con l'ayahuasca? la mia esperienza è stata in Italia l'hai presa? sì perché si può in Italia? sì si può in un determinato contesto devi essere adesso non so esattamente come funziona delle associazioni in quanto consumo tradizionale cioè non si vende al supermercato beh beh certo è una radice giusto? è una radice è un liquido fatto tipo caffè con una radice con persone competenti preparate che aiutano la somministrazione controllano se tutti stanno tranquilli se nessuno si sente male c'è una una cosa di purificazione intanto che può essere anche vomito diarrea io so che chi prende l'ayahuasca viene utilizzata anche per sembrerebbe per curare delle dipendenze tipo dall'eroina o del recupero di traumi a quanto pare si raggiunge un livello di di assuefazione che si può raggiungere con anni e anni di meditazione questo lo dico si dice anche nell'LSD le ricerche scientifiche che si fanno ora perché sono sostanze che danno una specie di distanza con se stessi cioè aiutano a non rimanere intrappolati nei propri pensieri nelle proprie angosce ovviamente non sto sostenendo che faccia bene fatevi l'ayahuasca eccetera ma scienziati stanno lavorando proprio su le modalità la posologia le dosi per le quali questo possa contribuire magari integrato a una terapia ma a me interessava la tua esperienza con l'ayahuasca non mi interessava la mia esperienza è stata per tre volte o tre o quattro non mi ricordo sempre positiva ma hai vomitato? sì però quello non ti dà cagato anche? sì però quello non ti dà particolare cosa hai visto? perché io la mia para è vedere erogica io se ho un'allucinazione ti prende malissimo impazzisco impazzisco no allucinazioni leggere ma sempre abbastanza positive di luci ma ognuno li prende in modo diverso cioè di solito quelli che sono più contenti e soddisfatti dopo sono proprio quelli che per due o tre ore hanno delle crisi di pianto di isperazione e poi sono ancora più liberati però la mia è una esperienza anedotica cioè non ti dico è così no no ma infatti voglio sapere la tua esperienza la mia esperienza è stata soprattutto che per i 5 6 7 giorni successivi uno stato di serenità benessere quiete e effettivamente non avevo neanche voglia di bermi il goccetto di vino quindi anche quella cosa delle altre sostanze penso che possa essere ovviamente non stiamo invitando nessuno a fare uso di ayahuasca cioè era semplicemente la sua personalissima esperienza e comunque la persona in tutti i casi la persona che aiuta la somministrazione poi dopo si discute insieme si condivide l'esperienza che cosa è successo a ciascuno un momento di condivisione collettiva esatto comunque voglio dire che mi ha ispirato molto questo non so se è una cosa buona o cattiva perché mi dà il senso di determinazione molto forte cosa che io apprezzo tanto ed è rischiosa nei miei casi perché se mi metto in testa di fare qualcosa allora facciamo così ti invito subito 25-26 febbraio a Addis Abeba in Etiopia dove facciamo il congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica affinché nel mondo si rispetti una cosa che c'è scritta nelle dichiarazioni dell'ONU ma non è rispettata che è il diritto a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni adesso che mi hai detto così io ti riempio hai detto la data? 25-26 febbraio ti autorizziamo ad andare non giriamo le puntate fai un video su questa cosa puntata da Addis Abeba portiamo no no fa un video dei suoi che invece sarà bravissimo secondo me a raccontare io accetto l'invito non prometto niente ma va bene ti mando tutto ok no devi andare adesso se mi dici devi mi viene voglia di non andare vedi questa è la dimostrazione che il proibizionismo non funziona ringraziamo Marco Cappato per essere stato con noi grazie a voi se volete informarvi questa è l'associazione Coscioni penso ci sia Luca Coscioni questo è il sito internet e se volete c'è anche un bellissimo libro di Marco Cappato che è credere, disobbedire, combattere da Muschio Selvaggio è tutto e grazie a Marco Cappato per essere stato con noi grazie a voi grazie a voi Grazie.